Nessuna traccia del rilancio della filiera avicola molisana ha promesso per gli inizi di settembre. Conf Cooperative Molise scuote il governatore e la giunta richiamandoli a mantenere gli impegni assunti prima che sia troppo tardi. È degenerata in accoltellamenti in pieno centro a Isernia una lite scoppiata in strada tra membri di una famiglia Roma, a Campobasso la squadra mobile arresta l'atitante e condannato per violenza sessuale. La società che si occupa dei trasporti urbani ha messo in mobilità tutto il personale, sono ben 45 i lavoratori che ora si trovano ad un passo dal licenziamento per l'assessore Nagni, una scelta frettolosa e non ponderata a dovere. Il termoli di mister Catalano cede al Neapolis solo ai rigori dopo l'uno a uno dei 90 minuti, intanto la società è sempre attiva sul mercato con un colpo grosso in canna. Gli indizi portano ad una punta che ha anche vestito la maglia della nazionale. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito in apertura ci occupiamo della gamma, sempre più incerto il futuro dell'azienda il cui rilancio era stato paventato proprio per gli inizi del mese di settembre. Conf Cooperative ha fatto il punto della situazione chiedendo con forza alla regione di mantenere le promesse assunte e finora non mantenute. Intanto la cassa integrazione scadrà il prossimo 5 novembre e resta la preoccupazione tra i lavoratori che chiedono con forza di poter tornare a lavorare. Sentiamo. Alla sempre più critica situazione della filiera vicola molisana si è aggiunto il botte e risposta tra i consiglieri regionali di centrodestra e il segretario provinciale e dei democratici Pietro Maio. Solo qualche giorno fa la minoranza unitamente al consigliere Lattanzio aveva presentato una mozione urgente per sollecitare il governatore e la giunta ad onorare gli impegni assunti. Del rilancio della filiera vicola molisana attraverso la socializzazione si è parlato nella sede di Conf Cooperative Molise. Siccome come Conf Cooperative prima e come ACI dopo abbiamo preso l'impegno di far ripartire tutta la procedura per rilanciare questo comparto è normale che la nostra preoccupazione oggi è abbastanza pesante anche perché per poter stare nel mercato, per poter attingere strumenti finanziari abbiamo bisogno di una tempistica ben precisa che noi avevamo individuato nel piano industriale. Se questo non è, è normale che la filiera avrà grosse difficoltà per poter ripartire. Non a caso abbiamo detto che il tempo passa, la socializzazione si allontana. Proprio ieri ho sentito anche il Presidente Frattura, lui mi ha confermato tutto quello che è stato fino ad oggi detto, cioè dire che la Regione farà la sua parte e metterà le risorse col PSR. Però questo non basta perché presumo che ci sia qualcosa che non va. E non a caso oggi alla conferenza stampa sono presenti anche i rappresentanti degli attori, insomma, per cui allevatori, trasportatori e il Comitato Avicop Molise, che comprende i lavoratori della gamma, per dire noi siamo pronti. E allora perché la filiera non parte? Noi non vogliamo dare colpe, noi vogliamo solamente dire che erano stati presi degli impegni e quegli impegni devono essere rispettati se non si costituiscono le cooperative, non siamo operativi, questo è il problema. C'è l'operatività, sia col sistema bancario, sia con i bandi pubblici, sia con gli strumenti finanziari. Si possono riavviare solamente se le cooperative si costituiscono, altrimenti sono tutte chiacchiere. E noi andremo ancora una volta a diludere quell'agenda che si attende delle risposte concrete, sia dalla politica, ma anche da noi che rappresentiamo praticamente le associazioni. A reclamare con forza il rispetto delle promesse fatte dal governatore in occasione delle precedenti assemblee, anche le organizzazioni sindacali, che stanche di aspettare, hanno chiesto un incontro urgente con il governatore Frattura. Preoccupazione anche tra i lavoratori per l'imminente scadenza della cassa integrazione ordinaria, che verrà meno dal prossimo 5 novembre. Ferma ormai dallo scorso ottobre l'attività del macello, resta in piedi solo quella dell'incubatoio, con circa 30 persone. I lavoratori si sono detti disposti a qualunque soluzione, che sia il socio privato, le cooperative, l'imperativo, resta quello di ripartire e poter lavorare. Seduta movimentata del Consiglio Comunale di Castellino del Biferno, chiamato a discutere sul rendiconto 2013. Il consigliere di minoranza Giovanni Fratangelo sarebbe stato minacciato addirittura di morte da un collega di maggioranza. Il servizio. Sarebbero volate parole grosse e addirittura minacce di morte che offendono prima di tutto le istituzioni e la dignità di chi le rappresenta. E' quanto accaduto in Consiglio Comunale a Castellino del Biferno. Vittima il consigliere di minoranza Giovanni Fratangelo, che nel motivare il suo voto contrario al rendiconto 2013, aveva sottolineato come non ci sia un avanzo di 8.000 euro, bensì debiti pregressi per circa mezzo milione. Un'affermazione che ha mandato su tutte le furie un collega della maggioranza che ha perso le staffe e ha attaccato duramente Fratangelo che ha già presentato denuncia al prefetto di Campobasso, a Carabinieri di Petrilla di Fernina e alla Corte dei Conti. Io ho evidenziato nell'approvazione del rendiconto 2013 il mio voto contrario segnalando numerosissime anomalie e soprattutto errate interpretazioni di dati contabili voluti sia dal responsabile del servizio finanziario che dallo stesso revisore, che è il Comune di Castellino in cui sta occultando di fatto da anni debiti pregressi. Ha preso parola un altro consigliere di minoranza che all'epoca dei fatti del 2010 e del 2012 era consulente finanziario del Comune e dipendente di altre pubbliche amministrazioni, il quale, sentendosi quantomeno minato perché la situazione contabile finanziaria dopo la riforma Bassanini, la responsabilità dei dirigenti se una situazione non viene evidenziata all'Assemblea. E mi meraviglio che un segretario comunale che dopo l'abolizione dell'agenzia di segretario è ritornata alla competenza della prefettura, non abbia trascritto le frasi ingiuridose e carognose e minacce di morte rivolte alla mia persona. E anche un'altra consigliere di minoranza, Giuseppina Angiolillo, sarebbe stata apostrofata con parole poco riguardose rispetto al ruolo istituzionale ricoperto. Alcuni di noi non eravamo d'accordo, quindi siccome fratangelo il consigliere di minoranza Antonio ha iniziato con accusi pesante verso il consigliere di minoranza fratangelo Giovanni ed io ho detto non è possibile che si interrompi in continuazione e pesantemente mi ha detto lei non doveva fare la consigliera, ben altro. e ho detto mi dica lei cos'è che dovevo fare, ben altro, molto arrabbiato, quindi sottinteso cos'è che dovevo fare. Invece entrando in buono il merito, quali sono i punti che voi contestate di questo documento contabile? Perché non ci piace il bilancio, assolutissimamente, quindi non è stato discusso con noi, hanno fatto tutto l'oro e quindi il bilancio di solito si discute tutti insieme di maggioranza, questo contestavamo. Ed ora la cronaca doveva scontare una pena residua di un anno, 10 mesi e 11 giorni di reclusione si era rifugiato in Gran Bretagna ma era da poco rientrato in Italia. Il latitante 48enne era stato condannato per violenza sessuale aggravata con perdita della potestà genitoriale e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Il suo ritorno in Molise non è sfuggito agli uomini della squadra mobile di Campobasso che sono riusciti a localizzarlo e a trarlo in arresto. Ancora cronaca, coltellamenti in pieno centro ai Serni e finita così una lite furibonda tra persone di etnia Rom per discussioni in ambito familiare. Feriti un uomo e una donna trasportati d'urgenza al Veneziale. Sentiamo. Una rissa in pieno giorno avvenuta al quartiere San Leucio finita a coltellate. Una donna di origine Roma ha estratto una lama e si è avventata contro un'amica e il marito ferendo entrambi. Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata per motivi familiari. Già in passato le discussioni avevano portato a furiose liti, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi. Due, le vittime dell'aggressione, un uomo ferito in modo grave ma non in pericolo di vita e una donna entrambi gli etnia Rom assaliti da una giovane donna che avrebbe legami di parentela con la coppia. La responsabile è fuggita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine facendo perdere le sue tracce. Le urla e il vociare hanno richiamato i passanti e gli altri membri della comunità Rom che vivono in zona. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. I due feriti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle prime cure del caso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Ad avere la peggio è stata la donna, mentre l'uomo è stato colpito di striscio. Sulla ricostruzione l'intera vicenda stanno intagando le agenti della squadra mobile alla questura di Sernia. Le indagini stanno cercando di risalire all'arma utilizzata per l'aggressione. Nonostante il ristretto regime di arresti domiciliari, l'81enne Gaetano Orlando accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un uomo durante i funerali del figlio morto tragicamente nei campi, è stato trovato fuori dalla propria abitazione dai carabinieri di Agnone che lo hanno nuovamente arrestato. Per l'anziano che dovrà presto affrontare il processo, si aggiungono altri procedimenti che aggraverebbero quindi la sua posizione. Torniamo ora sulla protesta degli operatori della formazione professionale che ieri si sono presentati davanti alla sede del Consiglio per fare pressioni sul governatore Frattura a chiedere l'impegno del Presidente con una mozione urgente anche la minoranza. Intanto i lavoratori guardano con speranza all'incontro con l'assessore Petraroia fissato per la giornata di domani. Il servizio. Dopo la protesta degli operatori della formazione professionale che tenendo fede a quanto annunciato si sono recati davanti alla sede del Consiglio regionale per fare pressioni sulla Giunta e sulla governatore Frattura, anche la minoranza unitamente al consigliere Lattanzio ha provveduto a sollecitare il governatore presentando una mozione urgente. Nella nota i consiglieri hanno chiesto di prorogare il progetto Sistema Regionale di Orientamento Permanente che scade il 30 settembre 2014 per poter dare continuità e sperimentare il modello predisposto su tutto il territorio regionale, chiesto anche di salvaguardare la situazione occupazionale di tutti gli operatori che vi lavorano. Così come aveva spiegato Ferdinando Mancini del sindacato Will Scuola Molise, nel progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo che sta per scadere, sono coinvolti 90 lavoratori della formazione professionale, di cui 75 iscritti all'albo regionale e altri 15 che svolgono attività di supporto. A chiedere l'impegno del presidente Frattura in favore degli operatori della formazione anche il consigliere Monaco in una precedente mozione. Non è Filippo Monaco o il consigliere Fusco o chi per lui, il consigliere Petroia, magari l'assessore Petroia, ma è l'Europa e lo Stato, l'Italia che ce lo chiede. Si sta andando nella direzione di formare sempre di più persone perché l'unica risposta che possiamo dare al mercato e aiutare le aziende è formare il personale, renderlo flessibile, renderlo capace di rispondere in termini di competenze e professionalità alle esigenze del mercato. Quindi alienare, togliere la possibilità di fare questo tipo di percorso significa tirarci la zappa sui piedi da sole. Io credo fortemente alla formazione professionale. La soluzione dunque potrebbe essere proprio quella di garantire una continuità prorogando il progetto almeno fino al prossimo 31 dicembre, data in cui si potrebbe tornare a regime grazie ai fondi POR. Intanto lavoratori e sindacati restano vigili in attesa dell'esito dell'incontro di domani pomeriggio nella sede dell'assessorato al lavoro. L'Aula di Palazzo Moffa nel corso dell'ultima seduta ha detto sì alla richiesta referendaria circa la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali e della chiusura infrasettimanale, un pronunciamento necessario per chiedere l'abrogazione di un comma dell'articolo 3 della legge 223 del 2006 che rappresenta un reale ostacolo all'esercizio della podestà legislativa regionale sull'argomento. Respinta invece dal Consiglio la mozione del Movimento 5 Stelle per ripristinare il calendario venatorio secondo le indicazioni dell'ISPRA. I lavori del Consiglio sono stati aggiornati alle ore 12 del prossimo mercoledì 17 settembre. Cambiamo argomento braccio di ferro tra Neuromed e Asrem in merito alla Fondazione Pavone di Salcito. oggi l'udienza al Tar a difendere l'Istituto di Pozzilli che ha presentato ricorso l'avvocato Salvatore Di Pardo a difendere l'Asrem il legale Giacomo Papa. Sentiamo proprio gli avvocati. La Fondazione Pavone di Salcito è al centro di una querella giudiziaria di fronte proprio al Neuromed e l'Asrem contro cui l'Istituto di Pozzilli ha presentato ricorso al Tar dopo il dietro fronte sull'accreditamento della struttura. Il centro Pavone è costretto all'irriparabile fallimento e saranno vanificati gli investimenti effettuati pari a 2 milioni di euro sostiene l'avvocato Di Pardo nel suo ricorso e il dietro fronte sull'accreditamento condanna di fatto il centro alla chiusura. Sì questa è una vicenda che dura da anni. In realtà la struttura è completamente ultimata e pronta per erogare prestazioni sanitarie, sociosanitarie. C'è da un anno e mezzo la sentenza del Tribunale Amministrativo che ordina all'Asrem e alla Regione Molise di concludere la procedura di accreditamento per consentire il regolare funzionamento della struttura con l'accreditamento definitivo e nonostante questa sentenza viene disattesa. L'Asle oggi con i provvedimenti che oggi abbiamo impugnato vorrebbe che non si disponessero dei ricoveri sulla base di un proprio inadempimento. A difendere l'Asrem illegale Giacomo Papa. In realtà oggi noi non discutiamo dell'autorizzazione che è da chiarire che Neuromed ha ricevuto per il salcito l'autorizzazione già nel 2003 e in base a questa autorizzazione può operare però può operare il regime privatistico. Oggi si discute di altra cosa se in assenza di accreditamento istituzionale e soprattutto in assenza di un contratto con l'Asrem possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario. Quindi nessuno oggi vuole sostenere che il salcito non possa operare. Il paziente che vuole andare al salcito lo può fare, chiaramente dovrà subbarcarsi gli oneri finanziari di questo tipo di ricovero. Se invece si vuole operare con il servizio sanitario regionale la legge impone innanzitutto che uno abbia l'accreditamento istituzionale che è una sorta di patente e poi che stipuli un contratto con chi deve pagare, cioè con l'Asrem. Oggi andremo a discutere se in assenza di questo contratto e soprattutto in assenza di un accreditamento istituzionale il salcito abbia comunque il diritto in barba alle leggi di poter operare a carico dei cittadini, dei costi generali dei cittadini e quindi del servizio sanitario regionale. Oro sostengono di aver avuto un accreditamento provvisore nel 2003 e questo risulta agli atti, però c'è anche da dire che nel 2007 si è avuta una nuova procedura per la conferma dell'accreditamento provvisorio. Loro hanno fatto richiesta, però la regione non si è mai pronunciata su questa richiesta e poi, ripeto, l'accreditamento istituzionale è ancora in corso di istruttoria. Il governatore Paolo Frattura scivola all'ultimo posto nella classifica di gradimento dei presidenti di regione elaborato dall'istituto Data Media, uno stimolo a impegnarci ancora di più e meglio confermando la linea di rigore della serietà che abbiamo seguito finora il commento a caldo del presidente che ha poi continuato. Di fronte a un calo del gradimento che non può lasciare indifferente nessuno sul piano politico ma soprattutto sul piano umano, è giusto riflettere insieme su come il governo regionale stia pagando lo scotto di scelte impopolari, ma necessarie, assunte in particolare per i servizi essenziali, sanità, trasporti, scuola, passando per le partecipate. La fiducia non può venir meno adesso, la chiedo ancora. Il giudizio vero dei molisani a scadenza di mandato ha poi concluso. Frattura. Caos all'interno di Forza Italia. In vista delle prossime elezioni provinciali, il coordinatore Ivan Forte ha organizzato un incontro in via Berta, Isernia, per tentare di risanare i rapporti all'interno del partito di centrodestra. Assenti però all'incontro i maggiori esponenti del partito. Vediamo. A chiamata raccolta tutti i vertici del partito di centrodestra il neocordinatore provinciale di Forza Italia Ivan Forte. Un incontro voluto per discutere sulla compagine di partito in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo dei vertici via Berta del prossimo 12 ottobre. Assente alla riunione l'europarlamentare Aldo Paricello e l'esponente regionale di Forza Italia, Michele Iorio. Un centrodestra in rottura tra due big del partito in seguito alle ultime elezioni regionali dello scorso febbraio 2013 con lo schieramento di Paticello al partito di centrosinistra. Anche Filoteo Di Sandro, esponente regionale di Fratelli d'Italia, ha cercato di risanare i rapporti all'interno del partito ma nonostante gli sforzi compiuti sembra proprio che le distanze tra gli ultimi schieramenti siano incolmabili e con grande probabilità non si arriverà ad un accordo unitario sulla candidatura a presidente della provincia. A tal proposito il neocoordinatore di Forza Italia auspica a un risannamento della politica attraverso un dibattito costruttivo tra le parti. Io credo per quanto riguarda la posizione di Di Sandro, lui fa parte di un partito che è Fratelli d'Italia che ha partecipato regolarmente con noi alle riunioni e il coordinamento provinciale rappresentato dal coordinatore Altopiedi ha manifestato la posizione di scelta comune rispetto a quello che è il percorso identificato anche dagli altri partiti quindi di convergere laddove si trova un nome condiviso su una posizione comune. Per quanto riguarda la posizione del consigliere Michele Iorio ovviamente ci troviamo di fronte a una posizione personale che è stata espressa lunedì nel corso di una riunione con amministratori che fanno riferimento a lui, una posizione che trova da parte nostra massimo accoglimento nel senso che credo che l'ex presidente Iorio abbia semplicemente inteso ascoltare quella che è la posizione di amici che hanno condiviso tante battaglie politiche con lui ma non ha precluso a priori la possibilità di trovare un'intesa con le altre sigle partitiche che compongono il centrodestra. Quindi immagino che se si ragiona in termini di contenuti e in termini di nomi su contenuti e nomi condivisi si possa trovare una quadra tra quelle che sono le varie forze del centrodestra. Cambiamo argomento. Il colonnello Vito Paparella, nuovo comandante della legione Carabinieri Molise, ha voluto salutare gli organi di informazione regionale. Nell'occasione è stato fatto anche un bilancio dell'attività svolta nei mesi estivi dai rispettivi comandanti provinciali di Campobasso e Isernia. Il servizio. Ha voluto presentarsi ufficialmente alla stampa il nuovo comandante della legione Carabinieri di Molise. Un ritorno, quello in regione per il colonnello Vito Paparella che proprio a Campobasso ha iniziato la sua carriera come comandante di plotone allievi carabinieri. Per me è un ritorno, il mio primo incarico, la prima destinazione è stata qui a Campobasso al battaglione allievi, quindi sono tornato molto volentieri in questo prestigioso e delicato incarico di comandante della legione. Un cambio all'insegna della continuità ribadendo il rinnovato impegno dell'arma dei carabinieri al servizio della collettività e al contrasto della criminalità. Resta dunque alta l'attenzione anche se la regione si conferma come oasi di tranquillità. Ovviamente registriamo anche qui un indice di delittuosità dei reati che però non è allarmante. Da parte nostra la massima attenzione, guardia sempre alta, i carabinieri sono sul territorio così come le altre forze di polizia con cui siamo in sinergia totale e vogliamo essere vicini alla popolazione e direi, aggiungerei, pretendiamo che la popolazione sia vicina a noi perché con l'informazione della popolazione noi riusciamo a gestire meglio questi fenomeni. Poi un intervento sulla spending review e sui continui tagli imposti dal governo centrale alle forze dell'ordine. L'arma dei carabinieri sta svolgendo spending review da sempre e le nostre risorse dedicate agli uffici le stiamo sempre più diminuendo a favore del controllo del territorio e il Molise non deve avere alcun preoccupazione perché il dispositivo territoriale semmai verrà rinforzato. Nell'occasione è stato fatto dai comandanti provinciali di Campobasso e Isernia anche un primo bilancio di tutta l'attività estiva che ha visto impegnate le forze dell'ordine soprattutto nel mese di luglio con la visita di Papa Francesco e con le operazioni volte a garantire la sicurezza di cittadini e turisti sul territorio basso molisano. Il questore della provincia di Campobasso ha potenziato l'ufficio relazioni con il pubblico. L'ufficio si occupa di informare sui servizi resi dalla questura e dagli uffici di polizia sul territorio della provincia, assistere gli utenti nella compilazione di pratiche e documenti e informarli sullo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, ricevere segnalazioni proposte e consigli da parte degli utenti. I cittadini che ne avessero necessità potranno rivolgersi oltre che all'ufficio denunce della questura e corrispondenti uffici in via San Giovanni e all'ufficio polizia ferroviaria all'interno della stazione di Campobasso che saranno aperti dalle ore 8 alle ore 14. Ci spostiamo ora a Termoli dove la GTM, la società che si occupa dei trasporti urbani, ha messo in mobilità tutto il personale. Sono ben 45 i lavoratori che ora si trovano ad un passo dal licenziamento per l'assessore in Agni, una scelta frettolosa e non ponderata a dovere. Sentiamo. Sono ben 45 i dipendenti della GTM tra autisti, meccanici e impiegati messi in mobilità dall'azienda di trasporti locali in seguito a tagli del 45% dei contributi che la regione molise erogava alla società per svolgere la propria attività. Una vera doccia fredda per i lavoratori dell'azienda che dall'oggi al domani si sono ritrovati in una situazione paradossale. Una presa di posizione netta quella dei vertici della ditta di trasporti che gestisce il servizio pubblico termolese che a Italia ha risposto con la mobilità dei dipendenti ma la regione non ci sta a tali ricatti destabilizzanti. Noi non abbiamo fatto altro che fare una verifica sostanziale delle proroghe che sono state fatte dal Comune di Termoli. Rispetto a questo ci sono delle compensazioni che sono a vantaggio della regione, non sempre le compensazioni sono a vantaggio delle aziende. Ovviamente ne parliamo, ne abbiamo parlato con il Comune di Termoli per trovare una soluzione e nel frattempo ovviamente il Comune di Termoli ha una disponibilità minore ma perché sono stati pagati dei soldi in fase precedente superiori al quadro finanziario. È un equilibrio, non c'è nessuno che leva soldi a nessuno. La reazione immediata della GTM come sempre tende a destabilizzare il rapporto con l'utenza e anche mettere in difficoltà il Comune di Termoli. Noi immaginiamo che invece ci debba essere un quadro più tranquillo. Mi auguro che presto questa questione sia affrontata nelle giuste sedi, si può pensare ovviamente a una rateizzazione, si può pensare a molte altre formule. Immediatamente la reazione della mobilità mi sembra più un ricatto diretto che una formula di partecipazione e di collaborazione. Dunque la regione è disposta a una rateizzazione delle spettanze e attende una possibile soluzione che potrebbe giungere con il nuovo bando che il Comune dovrà indire per affidare il servizio dei trasporti locali ma non accetta nessun tipo di estorsione. Ora toccherà l'amministrazione comunale trovare una possibile soluzione mediando tra i vertici di Palazzo Moffa e quelli della società basso molisana. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato in mattinata in un'esercitazione con gli elicotteri dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara. Le aree interessate dall'esercitazione sono state quelle del gruppo montuoso del Matese con base operativa al centro funzionale della protezione civile di Campochiaro. La scelta di queste aree è stata dettata dalla volontà di effettuare simulazioni di soccorso in ambienti montuosi ad alta vocazione turistica non raggiungibili dalla viabilità ordinaria in cui l'utilizzo di un elicottero rappresenta l'unico mezzo utile per fornire soccorso in tempi rapidi in modo efficiente a persone in difficoltà. Auguri carissimi al piccolo Mirko Germanelli che oggi compie 5 anni dai nonni Paola e Antonio, dagli zii Samantha e Michele e naturalmente dai genitori Deborah e Fabio e dal fratellino Davide. Agli auguri della famiglia si uniscono quelli della redazione di Molise TV. E adesso apriamo la pagina sportiva. Il Termoli saluta la Coppa Italia di Serie D cedendo ai rigori in casa del Neapolis. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. In ballo ci sarebbe un ex attaccante della Nazionale, che ha peso le scarpette al chiodo da qualche anno al servizio. Il Termoli si conferma squadra con fibra e spina dorsale, cedendo in Coppa al Neapolis soltanto ai calci di rigore. I campani si erano portati in vantaggio al settimo con un colpo di testa di Siciliano, ma al ventesimo Raffaele Pozzella ha rimesso le cose a posto per il Termoli con un gran tiro da fuori aria. Al novantesimo nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra, ma la rotteria dei calci di rigore ha premiato il Neapolis, che ha approfittato degli errori di Simonetti e Ciro Poziello, fissando il punteggio finale sul 5-4. Ora la truppa di Catalano può guardare con serenità alla difficile trasferta di Matelica. Intanto la società continua a muoversi sul mercato e da quanto trapela negli ambienti vicini alla tifoseria e alla squadra, sarebbe in piedi una trattativa per un grosso nome. Gli indizi portano ad un attaccante che ha anche vestito la maglia della Nazionale, con circa 300 presenze tra Serie A e Serie B, ma che avrebbe abbandonato il calcio giocato da qualche anno. Infatti, tecnica a parte, l'unico punto interrogativo sarebbe la sua tenuta a livello fisico. Inoltre, si tratta per un portiere o un regista di centrocampo. Per quanto concerne l'estremo difensore, si parla di Giuseppe Loiodice, classe 94, proveniente dal Biscei, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. E non è detto che insieme a lui non arrivi il colpato effetto, che potrebbe rappresentare il valore aggiunto del Termoli in termini di immagine e soprattutto di reti. Proseguono a buon ritmo le iscrizioni al Trail del Matese, che si correrà domenica 14 settembre. La gara, che si snoderà sui sentieri montani, è inserita nel calendario del circuito nazionale ed è organizzata dall'ASD Movimenti e patrocinata dalla Regione Molise. Continuiamo a parlare invece di calcio. Giuseppe Todino dietro le punte è stato la novità tattica del campo basso agli esi. L'ex Termoli si è disimpegnato bene, nonostante il pari all'esordio, guarda con fiducia alle prossime partite di campionato e servizio. Oggi innanzitutto da rilevare la tua nuova situazione tattica dietro le punte, innanzitutto come giudichi la tua partita? Diciamo che all'inizio abbiamo creato qualche contropiede importante, non abbiamo sfruttato l'ultimo passaggio. Diciamo che abbiamo sofferto un po' perché loro trovando il gol dopo 10-15 minuti hanno fatto un buon possesso di palla. Poi in partita in corso il mister ha cambiato modulo perché i terzini si alzavano tanto e facevano il gioco. Quindi poi ci siamo assestati ben in campo dove gli ultimi 10 minuti abbiamo spinto un po' di più, abbiamo messo parecchi cross al centro e la partita è cambiata. Poi nel secondo tempo siamo partiti molto più forti noi di loro e li abbiamo messi sempre nella loro metà campo e poi per fortuna abbiamo trovato il gol dove gli ultimi 5-10 minuti potevamo pure vincere la partita. Però al primo tempo loro hanno fatto un buon possesso e potevano fare pure il 2-0 come noi potevamo vincerla il secondo tempo. Un campo basso oggi che ha trovato nel gruppo la sua forza per rimontare e soprattutto addirittura per vincere la partita. Infatti le risorse di questa squadra sembrano davvero illimitate. Sì, sì, pure le prime due partite di Coppa, la prima partita con l'Agnone così così e l'abbiamo vinta. La seconda con il Tempo ne abbiamo giocato solo noi però purtroppo ai rigori si è persa e man mano le cose cambiano. Però noi la forza negli ultimi minuti ce la mettiamo tutta e quindi è una cosa importante per il gruppo, per la squadra e quindi è un'arma in più per il campo basso. Adesso chiaramente non avete più l'impegno della Coppa, ci si concentra domenica dopo domenica. Che campionato ci dobbiamo attendere? Noi ce la metteremo tutta sicuramente per questo campionato, poi ogni partita ha una storia a sé, quindi domenica abbiamo una settimana lunga per allenarci, domenica ci aspetta un'altra battaglia, quindi ci prepariamo al meglio per domenica a domenica. Fabio Emanuele, pilota della Campobasso Corse, si è piazzato al quarto posto ad Erice in Sicilia nella sesta tappa del campionato italiano di autoslalom. Il driver della Osella PA9 è ora a sei punti in classifica generale dal leader Salvatore Venezio che in Sicilia si è piazzato terzo. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 14 in Piemonte con la Garessio San Bernardo. Bene, con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo, arrivederci. Previsioni del tempo per venerdì 12 settembre. Condizioni di spiccata variabilità su Molise, Basilicata e Puglia con schiarite alternate ad annuvolamenti responsabili di locali acquazioni a carattere sparso temporali. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, ventilazione inizialmente moderata, mari generalmente mossi. Campobasso minima 12, massima 23 gradi. Isernia minima 17, massima 23 gradi. Termoli minima 19, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso.